Ristorante Scola di Castelbianco Un po' l'anticipo, ma abbiamo un aperitivo? Due minuti di attesa? La lascio un attimo, torno subito che la cucina chiama sempre Va bene Signor Fausto, ma dove va con quel cesto? A raccogliere la verdura nell'orto per il pranzo di oggi Posso venire anch'io? Certamente Grazie mille, andiamo È il caso di dire dal produttore al consumatore Mesh e go? Solo prodotti di stagione Signor Fausto, ma in questo periodo dell'anno, madre natura, che cosa ci offre? Cosa abbiamo? Abbiamo la zucchina trombetta, l'asparago violetto, il calciofo spinoso e il polmodoro con di bue, il nostro pomodoro E a questo punto lo sceglie Fausto con l'asparago che il piatto propone? Facciamo un asparago crudo con passone piemontese, manzo, fatta brunoise, olio extra virgin di oliva E con il carciofo come la mettiamo? Qua va, così Semplice e naturale, a questo punto Fausto che cosa manca? Un pezzo di focaccia e un bicchiere di vino magari, andiamo in cantina Andiamo E con il menù di oggi ho pensato a questa barbera d'astro, un fiulot di prunotto, un gran prodotto Mi dia un consiglio sincero, devo organizzare un matrimonio per degli amici un po' esigenti Abbiamo diverse location, sulla riviera, nell'entroterra, castelli, più che posti indimenticabili per proprio questi eventi particolari Signor Fausto mi ritengo fortunato ad averla conosciuto, lei ha pagato tutti i miei sensi Però sarà la primavera, mi sento un po' stanco, ci vorrebbe un riposino Un buonoste, anche una buona camera Per un buon riposino le lascio la quattro A questo punto mi fermo a cena Chissà che piatto mi avrà preparato il buon Fausto Buonanotte ragazzi Buonanotte ragazzi